E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e che c'è giocare ma? Sneak Tiff Esattamente, un gioco che abbiamo visto prima di tutto da Jackseptikai, Gabby e anche Favij L'abbiamo trovato fantastico e abbiamo deciso di giocarlo anche noi Esattamente, in che cosa consiste? Semplicemente siamo dei ladri e dobbiamo rubare nelle case Non è una cosa bella da dire, però dai, nei giochi è super divertente andare a rubare nelle case Ognuno ha il proprio lavoro, abbiamo fatto il lavoro di quello che si puliva negli hotel Adesso facciamo vedere come si ruba Ho controllato giusto i tasti ma sinceramente non so proprio come si entra Sì, questo ragazzi è il primo livello dopo il tutorial, praticamente non c'è niente Non abbiamo ancora visto nulla perché, allora, la porta ovviamente è bloccata Quindi dobbiamo trovare un'entrata secondaria, mi sembra la cosa più logica Mi abbasso Cioè se tu dovessi andare a rubare in una casa, cosa faresti? Di sicuro spegniamo la luce perché così se c'è qualcuno non ci nota Qua c'è qualcosa C'è qualcosa da fare Open Apri Ok, allora, 100, 232, 321, 412, li ho già dimenticati tutti Te l'ho detto che potevi premere Hai fatto scattare l'antifurto Ragazzi Oh mamma mia, te l'ho detto che era da premere lì È già andata malissimo Cosa sta succedendo? Che adesso ci distruggono Hai fatto scattare l'antifurto, arriva la polizia No, vedi che c'è la macchina Stai nascosto Stai nascosto Perché partiamo così male? Noi dovrebbe essere livello facile Perché non mi ascolti? Ti ho detto che quello era un codice sicuramente per aprire la casa Aiuto! No, no, no No, vai via, scappa, scappa Ho una pistola, scappa Ma sono così cattivi qua Io voglio dire una cosa Questa è un'ottima simulazione di cosa succederebbe se i frinichi provassimo a rubare in una casa Andrebbe così male, ne sono proprio sicuro Con noi che scappiamo impauriti Penso di aver capito, se sbaglio Non mi picchiare, non mi picchiare Allora, da quanto sto vedendo qua c'è 0-0 Quindi dovrebbero essere coordinate Quindi l'uno che devi premere 0-0 dovrebbe essere questo Ok, poi 3-2, penso 3 in alto Quindi 1-2-3 e 2 qua, quindi questo qua Questo? Sì, secondo me sì Come hai fatto a contare 3-2? No! Resetta, resetta, resetta Sì! Era il contrario Stavamo sbagliando le coordinate come metterle Abbiamo provato a fare il 3 sotto Ed è andata, ed è andata Ok, quindi possiamo entrare in casa a rubare Possiamo entrare in casa a rubare Non devi essere felice Sono felice, è bello questo giorno Comunque credo che abbiamo disattivato semplicemente l'antifurto Quindi adesso comunque Ah, ok, però la porta si apre adesso Perfetto Allora, chiudi, chiudi Mi raccomando facciamo a te Non toccare nulla Non toccare Allora Per andarcene sicuramente abbiamo bisogno di soldi Giusto? Allora, questi valgono tantissimo Mille l'uno! Vai, vai No, gli altri 50, quello mille No, quello non valeva niente Lascialo lì Il DVD player ce lo portiamo a casa Le birre, no? Peccato No, le bottiglie La TV Sì che ci prendiamo un po' Non pensavo che ci stesse Ok, allora Quello secondo me vale molto, vero? Sembra una cosa che possa valere Non era male, non era male Ok Allora, qua non c'è altro Quindi Poi vediamo un pochettino Il vaso è molto bellino E nel vaso Perché ti piace? I quadri I quadri Secondo me valgono Nel frigo c'è qualcosa di buono? La pizza No, la pizza La pizza la dobbiamo prendere Almeno una Andiamo Almeno una ce la portiamo a casa Andiamo Ce la portiamo Lasciagliela nel tavolo Allora, non facciamo chiasso Eh Ok, smettiamola di fare chiasso Comportiamoci da ladri seri Ok Ok Allora, il microonde secondo me non vale molto Bisogna capire un pochettino Questa stanza dove porta? Ok, una sorta di ripostiglio Di... Non c'è nulla Io la terrei Perché non si sa mai Non far comodo Non far comodo Prima abbiamo visto un tizio a pisola Che ci inseguiva Quindi Penso fosse un poliziotto Anche secondo me Giustamente Allora ragazzi Io vi garantisco Che è stato lo scare jump Più brutto di tutta la mia vita Ma io non mi aspettavo che tornassero Cioè pensavo di potercela prendere con comodo Considerate Voglio specificare Che noi giochiamo Senza le cuffie Perché altrimenti ci sentiamo poco tra noi due E quindi giochiamo sempre senza le cuffie E con le cuffie appoggiate Un pochettino a terra E si sente il minimo suono Quindi probabilmente Voi magari avete sentito una persona Che rientrava a casa Noi Non abbiamo sentito nulla Eravamo tranquilli Pensando di rubare in tutta la casa Senza problemi No ma aspetta Giustamente Devi fare le cose in silenzio Cioè dai Sarebbe stato troppo semplice Quindi dobbiamo fare attenzione Comunque siamo da troppo tempo chiusi nel bagno Io ho paura che E vedi ho paura di uscire Paura di nuovo Perché abbiamo paura a noi Dovrebbe avere paura a lui Devi essere veloce Devi essere veloce Tablet Dobbiamo andare via Il prima possibile Documenti Ho trovato dei documenti segreti Segreti Sicuramente Guarda Saranno un sacco Ok dai Mi sembra Mi sembra di poter Altri documenti Per andare via Ci tengo a precisare I quadri I quadri Che dobbiamo È tornato qualcuno Hai visto Davvero Sì c'era la porta aperta Non l'hai vista No Spegni la luce Non mi ricordo più il da F Spegni la luce Aiuto Aiuto Ma sei sicura Sì Sono sicura al 100% C'era la porta di casa aperta Dicevo in alto Vedete 19.000 Dobbiamo arrivare a 50.000 Prima di poter andare via Ma dai Ma che gioco è Aiuto Scappa 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 Allora Controlliamo prima di tutto i cassettoni Uh Ma cosa è in questa casa Cioè sono ricchi Sono proprio ricchi Per avere un tizio così violento Che appena proviamo a rubare qualcosa Ci spacca la faccia È molto cattivo Mollalo Mollalo Dai 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 Ci dobbiamo muovere Dobbiamo fare una cosa veloce È questa Come lo facciamo a capire il codice Spaccala Ci ho provato Come qua siamo a 49.000 Secondo me non c'è neanche bisogno della cassaforte Che dici Non lo so Non lo so Perché comunque c'è Credo che Fai un bonus più guadagni No Non lo so Allora i documenti li ho presi Guarda Eccolo eccolo Togli Togli tutto 5,3,4,2 5,3,4,2 5,3,4,2 5,3,4,2 Yeah Prendi 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 Stacco of money Prendi Boom 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 Guarda 82.000 Scappa Scappa Andiamocene Andiamocene 4 minuti e 23 82.000 dollari Primo livello finito Primo livello completato La prossima è una banca Interessante però Mi piace che cammino Questi location E poi guarda Più avanti Più aumenta la difficoltà Comunque già in easy Sono difficili Più più normal E più più hard Infatti Non è proprio Facile facile Quindi prepariamoci Al peggio Perché in una banca Secondo me ci sarà Proprio roba difficile Da fare Assolutamente Guardali Armati Allora Voglio capire un attimino Una cosa Vengo vista come una persona Normale O già come il ladro Non ho capito Alla guardia E vediamo se mi spara Vorrei fare Un prelievo in banca Buongiorno Stavo facendo un ottimo lavoro lì Buongiorno signora Com'è? C'è molta fila oggi No si sta bene Secondo me Forse si è messa un po' troppo Crema in faccia Un po' troppo lucida No 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 Dai Stavo soltanto esplorando Un pochettino Vabbè No No La scala Allora entriamo Qua c'è pure una porta Oh mamma Te l'aspettavi lì? No mi ha fatto troppa paura Allora ragionando un pochettino Sembra molto Payday Payday Assomiglia tantissimo Vabbè giustamente Che lì devi fare delle rapine Allora abbiamo tre guardie Una dietro Una al piano di sopra E una lì fuori Quindi sappiamo che sono tre poliziotti Sappiamo che se entriamo in quella stanza Risulta come se iniziamo la rapina E quindi a quel punto parte tutto Ok Chiudi Quindi proviamo questa volta ad entrare da qua Giustamente c'è un pc Qui c'è il computer con la password da mettere Per entrare dentro il cavo Qui ci sono quelli che lavorano Ok Ok Quindi sappiamo che il nostro obiettivo è arrivare a qui Sì esatto Quindi avere questa password Dove la troviamo? Dove la possiamo trovare? La password o è al primo piano O è al piano di sotto Dove ci hanno sparato Sì assolutamente Il discorso è Come ce la dobbiamo cavare Proviamo ad entrare da qua? Sì 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 Magari troviamo Ecco ecco vedi Interessante Questo è un bel posto Interessante Allora Le scatole togliamole immediatamente Perché qua ci potrebbe essere qualcosa di nascosto Ecco ecco vedi che c'è No Explosive Uh ma bello Stiamo scherzando Ma questo è fantastico Bellissimo Questo è fantastico ragazzi Vedi che avevo ragione Stiamo facendo un disastro qui dentro Eh lo so lo so Però dovevo essere sicuro che non ci fosse altro Ho paura di fare questa manovella Che è successo? Che è successo? Spero nulla Allora qualcosa serve Non mi sembra che abbiamo tolto elettricità Perché quelle luci sono ancora accese Quindi non mi sembra niente Vabbè 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 Allora noi risaliamo Ok Facciamo esplodere tutto adesso Esatto Facciamo esplodere tutto Vedi? Oh mamma mia che bello Allontanati 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 Puoi fare delle cose anche qua Quindi comunque Ok Perfetto Magari qualcuno si è dimenticato la password Tranquillo Stiamo prendendo un po' d'acqua C'è caldo fuori Sì C'è caldo Chiudi 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 Password Password Leggila Si può leggere? Non si può prendere? Come la dovremmo vedere? Puoi zoomare o no? Oh mamma mia Allora facciamo una cosa Sì Una cosa intelligente Da brava ladra Quale sono? Fai lo screenshot Faccio una foto Un ladra sempre il cellulare Assolutamente sì No facciamo la foto Perché altrimenti Non ci ricorderemo mai le cose E andiamo a sentimento Cioè quelle che Ok Che ci piacciono di più Che poi sono stranissime Davvero Sì Allora facciamo Che abbiamo quattro tentativi Quindi due a testa Ok Ci stai? Ok Una la scelgo io Una la scelgo tu Una la scelgo io E preghiamo Allora Io voglio provare cool Perché sono cool Ok vai Cool C C O O L No Però guarda Aspetta Forse sto capendo Ha lasciato due lettere Ok ok Allora ci sono E book Book E book Sì B E k Sì Si sta prendo Si sta prendo Vedi ti lascio anche le lettere Comunque quindi Quattro tentativi erano giusti Che meraviglia Prendi Ma secondo te scatta L'allarme adesso Non lo so Prendi più che puoi Oh mamma mia I soldi Mamma mia I soldi Quanti sono Non ci posso credere Oh che bello Oh che bello Guarda quanto stiamo prendendo E stavolta Non ci posso credere Allora l'allarme è disattivato Quindi teoricamente Non ci dovrebbe beccare nessuno Allora i cassetti si aprono Oh mamma mia Dobbiamo prendere tutto Vero Abbiamo guardato a quanto Dobbiamo arrivare No E quindi Come minimo Ok non sono tutti pieni Ok ok perfetto No meglio meglio Se non ci mettiamo una vita Vai Via 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 Ok Corri Corri verso la macchina Come se non ci fosse un domani Corri più veloce che puoi Perché mi dico Allora Da che parte è? Aspetta ci sono Cerchiamo di lanciarci Proprio dritti Capito? Ok Ok Vado? Vai Zalonimo Non guardare la guardia Perché già che ti vedono Saltare dal tetto Sì Sì Andato Anche secondo livello Completato Siamo bravissimi Batte il 5 Siamo davvero dei ladri Provetti Siamo bravissimi Siamo riusciti a rubare Anche in una banca Ma ti sembra Davvero davvero bravi E nessuno si è accorto di nulla Non abbiamo ucciso nessuno Avevamo esplosivi Fucili Pistole Non abbiamo usato nulla E l'abbiamo fatto in modo pacifico Secondo me la cosa più bella di questi giochi Un po' come P-Day È fare le mission in stealth Piuttosto che andare a sparare tutti Esatto Secondo me è molto più diverso Molto meglio volevo dire Riuscire a fare le cose piano piano Trovare appunto i codici Per aprire le cose Ed è bellissimo Mi piace davvero tanto questo gioco Esattamente È stato super divertente Io non voglio neanche pensare Cosa siano i livelli Perché da lì in poi abbiamo Tre normal E un hard Quindi Non vorrei dire Ma se volete vedere altri video Lasciate i centianti likes Vediamo views Commenti Tutte le cose Ma se continuiamo Secondo me sarà difficile Guarda C'è lo yacht Ma che bello Ma poi Dimension Quindi la casa gigante Esatto E poi The Diamond E quindi ci lasciano proprio I diamanti La rapina di diamanti Per concludere Perché è proprio il simbolo Del rubare Dai È stato così Quindi fateci sapere Se volete vedere Almeno un altro episodio Ovviamente questo è nella categoria Giochini divertenti Come Overcooked Eccetera eccetera Che ogni tanto vi portiamo Per portare un po' di varietà E speriamo che l'avete apprezzato Bene che se vi piace così Se vi dimenticate Aggiunta 17 me like E se è la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti